Il Tecnopolo di Piacenza è il luogo dove il territorio incontra l'innovazione della ricerca. Naturalmente per la presenza in quest'area del Laboratorio MUSP, impegnato in iniziative di innovazione quotidianamente, ma anche attraverso una serie di azioni rivolte più in generale al cittadino. Si va dall'alternanza scuola-lavoro, per la quale ospitiamo qui i ragazzi, per fargli vedere quale potrà essere la prospettiva futura che incontreranno nell'attività lavorativa. Iniziative per le imprese, di queste ne abbiamo tantissime, ma anche iniziative di carattere culturale, come presentazione di libri, tutto quello che può servire per aprire la mente, per capire che questo insediamento non è soltanto la sede di un laboratorio, ma deve essere un motore per far nascere cose nuove nel territorio. Legate a quello che è la prospettiva futura, tematiche come la sostenibilità, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare i prodotti e i processi industriali, le attività di produzione che hanno luogo qui nel territorio, l'impiego dei big data in applicazioni che sono sempre più rilevanti per la vita quotidiana, quindi per le attività dei cittadini, sono tutte tematiche di prospettiva futura, ma fortemente volute dallo sviluppo che l'Europa prevede per i territori comunitari.